Ciao, bella raga, e sono Lavinia, e in questo nuovo video, spettacolo io, per seguire, eeeh, sento questo rumore, vabbè, comunque, eeeh, il video, cioè, dobbiamo fare un unboxing, eeeh, dobbiamo unboxare, dopo una giornata intera, si è ripetuto questo video per canzare, e dai, e dopo una giornata piena, deciso di tornare con il video, e fare un unboxing, che è arrivato qui, e qua. Eh, l'ho già aperto, però dai, allora, si tratta di un unboxing, ok, dai su, l'ho già aperto, cioè, una cosi sotto, l'ho già aperto, ok, l'ho già aperto, ed è un unboxing, c'è un unboxing, un puzzle, di S.C.O.L.M.U.S.A.L.2, può vedere, no? S.C.O.L.M.U.S.A.L.2, 2, 2, 2, poi c'è, un multimedia, c'è un multimedia, c'è un multimedia puzzle, un libretto, bello c'è, ci sono questi, puzzle, ballo, guardate, sono delle palline guardate guardate poi ci sono altri puzzle guardate sugli animali sui cartoni sui lupi, animali, tigri fontane, mare cuori arte c'è quadri universo bello castelli questo quadro ce l'ho pure mio zio comunque un libretto e c'è una cosa che ah si è stato puzzle original c'è scritto ogni puzzle è stato prodotto e confezionato con la massima cura ci è tratta così e questo qua ho usato mille pezzi bello eh agli altri pezzi sono caduti perché perché cioè ho già vuotato però un po' qua e quindi sono caduti dei pezzi comunque alcuni alcuni li ho trovati e adesso vi faccio vedere l'unboxing scondrino 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 è spillato bene è spillato bene raga guardate è spillato bene cioè guardate le pillette scondrino un po' qua dai ce lo possiamo fare eeeh scusate un poco di minuti 3 minuti come va c'è c'è una cosa che mi piace questo puzzle che ha fatto in materiale speciale non so quale ok si vede spero ok aspettate un po' ok perfetto ok questo mi piace che è fatto in un materiale eeeh c'è non so anche questo si il puzzle c'è sempre da un tessuto tessuto si va come dire si può notare non so se si può notare aspettate per un altro pezzo quale questo va oppure questo oppure questo sempre occhio sempre occhio non so se si può notare però si nota da qua si nota eeeh a me piace molto questo materiale ok busta si butta ok eeeh vabbè questo è l'unboxing eeeh guardate che bello ultimei libretto eeeh questo foglio lo mettiamo qua e adesso io metto a fare il puzzle eeeh se ci vuole un bel po' dai però devi avere pazienza con un puzzle a me piacciono quindi devo avere pazienza io ne ho sappiamo quanto eeeh c'è comunque questa lei la spellatrice guardate si dai questo è il puzzle l'unboxing è che dire grazie sai chi perchè il unboxing è arrivato da mio parente che non è troppo lontano da qua però dai si se ne perdo uno sono finita perchè senza un pezzo tipo se manca un pezzo di me non mi sono completa quindi dai eeeh ho trovato un pezzo forse dov'era? quello che avevo fatto vedere prima eeeh qua aspettate lo trovo subito dai no questo è di gabriella si è di gabriella ho trovato un pezzo si ho trovato un pezzo si è di gabriella aspettate trovo un altro dov'è? ok ragazzi inizio un anno però dai ci vorrà un bel po' a trovare un pezzo figuratevi una figura intera cioè l'avevo visto che l'avevo fatto vedere poco poco fa pochissimo tempo fa dai dove sei troi? troi 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 boton troi boton che andiamo dai 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 su dove sei? ci vediamo ci vediamo ci vediamo oppure noi no non c'è guarda raga non c'è però so che c'era un pezzo qua intanto ho trovato questo di gabriella no? dai vi saluto e al prossimo video dove sei? dove sei? no non c'è la chi hai trovato? vabbè alla prossima vabbè alla prossima e godetevi questo video